Nostro palco! Salve a tutti i piccoli eroi! Voi non siete i veri Waterman e Supervista, siete due impostori! Certo, e allora? Noi siamo attori! Attori! Come si può fare un film di Waterman e Supervista senza i veri Waterman e Supervista? Piccolo, si tratta di un film d'azione, i vostri eroi sono troppo vecchi per il film d'azione! No, loro sono senza età! Giusto! Vedo che tutti siete d'accordo con me nel dire che non permetteremo che questi imbroglioni rovinano il buon nome dei nostri supereroi! Penso che nessun fan di Waterman e Supervista sia disposto a pagare per assistere a una truffa celluloide! Quindi propongo a tutti di voi di contare il loro film, che è come anzi la mano... Traditori! Vedrete quando lo saprà il vero Waterman! B-47! Ah? Bongo! Si dice Bingo! Mi tolga le mani di dosso, signora! Ah, 29! Troppo vecchi per fare un film d'azione! Che cosa vuoi stavolta? Lo sapevate che la Salsedine Studios vuole fare un film di Waterman e Supervista? Ma possono fare un film su di noi? Invece sì! E si sono rivolti a degli attori! Oh! Vogliono fuscare i nostri eroi! E vogliono anche metterli in ombra! Il nostro sogno di diventare eroi del grande schermo non si avvederà mai, purtroppo! È una cosa inaccettabile! Puoi dirlo a volte, piccola! E la cosa ancora più triste è che... Non mi ricordo più perché ho cominciato a piangere! Perché non facciamo un film tutto nostro? Padre, ancora una volta la tua genialità ha fatto freccia! Realizzeremo un vero film di Waterman e Supervista, proprio qui, nella casa di riposo! Dici davvero? Sì! In questo modo rimedieremo il grosso sbaglio che ha fatto la Salsedine Studios con i suoi... attori! Grazie a tutti!